La nostra attività, da un punto di vista pragmatico, è rivolta al cliente che vuole comprare sia la casa per abitarci, sia la casa perché vuole poi metterla in locazione e quindi avere una redditività da questo immobile, o anche il cliente abituato ad acquistare per operazioni di strutturazione e rivendita nel breve periodo per avere delle plusvalenze economiche. Una volta individuato l'immobile, la perizia che è stata depositata in tribunale insieme all'avviso di vendita e insieme a tutta una serie di altri documenti che seguono l'esecuzione immobiliare verranno inviati al vostro notaio di fiducia che dovrà redigere la procura speciale per la partecipazione all'esperimento d'asta del nostro avvocato.